il mio sforzo è proprio questo qui è dare alcune informazioni sulla muscolatura il respiro i riflessi la creatività il modo di funzionare la nostra mente l'empatia con gli altri esseri umani ci sono una serie di informazioni elementari che puoi apprendere rapidamente questo è il corso di zen occidentale un corso strepitoso istantaneo immediato spero divertente e non è che ti cambia la vita che poi non c'è tutti i tuoi problemi continui ad averci però c'hai un po di risorse in più il mio impegno è di non prendere per il culo nessuno di non vendermi come un guru ecco guru non manca la parola me la ricordo però di dare informazioni realmente utili ciao 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 ciao